12esima tappa del centesimo giro d'Italia da Forlì a Reggio Emilia. La Corsa Rosa è passata anche dal Mugello dove tanti appassionati di ogni età si sono ritrovati sulle strade per supportare i propri beniamini. Immancabile la carovana rosa la cui festa ha coinvolto il popolo mugellano nelle ore precedenti al passaggio della gara. Ecco lui! Ehi! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.